lui dovrebbe far più di lasciare ma fa giro intero? a quanto pare si no, se non arriva lì e... non so cosa ho ripreso, credo niente ma va bene allo stesso no, no, veramente no abbiamo fatto bene all'inizio non ci si abbiamo fatto bene va bene il paese per il paese non è che non era che per far giro non è che non è che Sì, è molto di bassa. Grazie a tutti Grazie a tutti